Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Recenti voci insistenti circolano riguardo alla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. La showgirl nota per la sua ricerca dell'amore vero sembra trovarsi di fronte a nuovi ostacoli nella sua relazione con il 34enne. Attualmente Belen si trova in vacanza ad Albarella insieme ai suoi genitori e ai suoi due figli Santiago e Lunamar. Tuttavia, fonti vicine alla coppia suggeriscono che la showgirl potrebbe non aver ancora superato appieno la separazione da Stefano De Martino, cercando conforto in relazioni superficiali. Nonostante le voci di crisi, Angelo Edoardo Galvano ha recentemente smentito tali speculazioni con una storia su Instagram che lo mostra insieme a Belen sull'isola di Albarella. Anche l'esperta di gossip di Yanira Marzano ha confermato di averli visti insieme su un golf car. Nonostante le rassicurazioni del compagno, Belen non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla situazione della loro relazione. Resta quindi da capire se la showgirl riuscirà a superare le difficoltà attuali e a trovare la serenità che tanto desidera.